E' pronta a partire la seconda giornata del girone A di eccellenza che si apre col botto con subito il derby tra Grotta e Virtus Avellino in programma sabato alle ore 15.30 al Romano di Grotta Minarda. Sfida molto interessante tra due squadre che lottano per i primi posti della classifica. La Virtus all'esordio ha battuto la forza e coraggio per 3-1 mentre il Grotta ha guadagnato un punto a Montemiletto. Secondo derby in altrettante giornate per la formazione di mister Ciccio Messina. Il cervinare di Giuliano invece dopo la bella vittoria di Ariano è spugnata con un gol del tanque Cornazzani. Domenica allo stadio Giovanni Russo di Paolisi riceverà il Saviano, reduce dallo 0-0 interno con il Lioni. La formazione di mister Osvaldo Ferullo farà il suo esordio in casa contro il Pomigliano battuto alla prima dal città di Avellino che intanto vuole allungare la striscia di vittorie e ci proverà Domenica al Roca di Sant'Omaso alle ore 15.30 contro la Virtus Volla. Intrigante la sfida tra i due allenatori, ovvero tra Sgambati e l'ex Sant'Omaso Stefano Liquidato. Due trasferte impegnative per Visariano e Lions Montemiletto che sfideranno rispettivamente Forza e Coraggio e Palmese e entrambe le compagini irpine sono alla ricerca della prima gioia in campionato. La classifica per ora vede a tre punti città di Avellino, Palmese, Virtus Avellino, Reala Cerrana e Audax Cervinara. A un punto Grotta, Lioni, Lions Montemiletto e Saviano e ancora a zero Visariano, Virtus Volla, Forza e Coraggio, Ottaviano e Pomigliano. Prepariamoci ad assistere ad un turno di campionato battagliero e coinvolgente con l'unico obiettivo di centrare i tre punti.